Ciao, sono Veronica, lavoro in questo settore da 14 anni, ho iniziato quasi per caso e poi alla fine mi sono divertita e mi sto divertendo. Il settore del bianco, anche se è bianco, è pieno di colori e le sfumature di colore le danno ai clienti. Ciao, sembra di capire che hai bisogno di un consiglio. Eh sì, vorrei una lavatrice bella capiente e che non consumi però tantissimo nei lavaggi, ecco. Ti posso aiutare, vieni con me. Ok. Questa è la macchina e la lavatrice che fa per te. Ok. Ti semplifica la vita, non devi fare più niente. Spiega, spiega, spiega meglio questa cosa qua perché semplifica come? Semplifica che abbiamo il dosaggio del detersivo automatico, quindi il detersivo lo inserisci una volta sola e poi non ci devi più pensare per 20-30 lavaggi, viene pescato automaticamente. Ovviamente riducendo il carico del detersivo c'è meno acqua. Riduciamo il carico del detersivo ma calibriamo la dose di acqua giusta per andare a lavare 6-7 kg fino anche a 9 kg di biancheria. Questa macchina carica fino a 9 kg di biancheria. Quindi con questa macchina andiamo a risparmiare non solo sul detersivo ma anche sull'acqua. Ah, non male, non male. Sai che cos'è questo? Non è il cestello del lavaggio ma penso che sia il serbatoio del detersivo. Esatto, ma non è un serbatoio normale perché in più abbiamo questi sensori che regolano goccia a goccia la quantità giusta di acqua che deve entrare in vasca per avere un lavaggio perfetto al minor consumo possibile. In più è una macchina molto silenziosa grazie ai pannelli fonoassorbenti che mi rendono appunto più silenziosa e meno vibrazioni in macchina. Ma più stabile anche per cui. Molto più stabile e un motore inverter garantito 10 anni. Avete anche delle altre funzionalità oltre a queste che già sono evolute? Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di avere una variazione dei miei programmi di lavaggio. Quindi ho un risparmio energetico fino al 65% su determinati programmi. Quindi posso accorciare il tempo di lavaggio avendo comunque un buon risparmio energetico e un'ottima efficienza nel risultato finale. E abbiamo in più una soluzione molto comoda quindi poter aggiungere il bucato anche quando il lavaggio è già iniziale. Per cui non devo stoppare il lavaggio? Assolutamente no, non torniamo indietro ma andiamo avanti. Molto facile anche nel controllo e nella programmazione del lavaggio. E ha due o tre cose molto interessanti che non tutte hanno quindi direi innanzitutto la pulizia del cestello. Sì, quello visto che non c'è in tante macchine, guardavo prima ma non c'è in tante macchine. Non c'è in molte macchine solo diciamo nelle fasce medio-alte ed è molto comodo e interessante perché mi igienizza, mi tiene pulita la lavatrice ogni qualvolta ce n'è bisogno. Perché in effetti nessuno la pulisce sostanzialmente, o pochi. Può essere una cosa che passa un po' di mente, invece la lavatrice va disinfettata e pulita come qualsiasi elettrodomestico viene utilizzato. Quindi direi che le caratteristiche di questa Bosch, quindi i 9 kg, i 1.400 giri di centrifuga, la silenziosità e la stabilità grazie al motore inverter garantito 10 anni e la possibilità di avere un risparmio energetico fino al 65% in fase di lavaggio, direi che mi fa dire che è una macchina perfetta. Una soluzione smart. Una soluzione smart. Una soluzione smart.